E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi raga un video bomba di Fortnite, ma prima di iniziare con il videogameplay devo parlarvi di alcune cose molto molto importanti che sono sicura che potrebbero interessare a molti di voi. Quindi raga, ascoltatemi attentamente. Lo sapete ragazzi che c'è la possibilità di entrare a far parte del mondo del lavoro proprio grazie alle skills acquisite tramite Fortnite e i vostri videogiochi preferiti? Vi spiego meglio nel dettaglio cosa intendo. Sono sicura che molti di voi proprio come me abbiate appunto sviluppato e migliorato molte delle vostre skills, soft skills e anche alcuni aspetti del vostro carattere. E appunto la leadership e la capacità di lavorare di squadra, che sono due caratteristiche veramente fondamentali per il mondo del lavoro. Io per esempio grazie a Fortnite e grazie ai videogiochi e grazie appunto al lavoro che comunque ormai faccio da quasi 4 anni, sono riuscita a migliorare tanti aspetti del mio carattere. Prima ero una persona molto più timida, molto più introversa, avevo quasi paura a socializzare con le persone. Mentre oggi proprio grazie comunque al mio percorso che ho seguito per appunto tutti questi anni, sono riuscita proprio a migliorare questo aspetto caratteriale. E oggi ho molto più autostima di me stessa, riesco a socializzare con le persone, anzi non vedo l'ora di conoscere nuove persone. Qualcosa che molto probabilmente anni e anni fa non sarei riuscita minimamente a fare, mentre oggi riesco a fare queste cose tranquillamente. E anche in questo percorso che appunto ho seguito e continuo a seguire da anni, sono riuscita comunque a conoscere delle nuovissime persone. Tutto questo ragazzi per dirvi che appunto G-Group ha lanciato questa iniziativa per proprio far avvicinare tutti i videogiocatori, ho sviluppato delle skills e delle soft skills e che vorrebbero appunto buttarsi nel mondo del lavoro. Di conseguenza vi dà la possibilità di essere contattati con un colloquio online e vi basterà semplicemente inserire i vostri dati, cliccando appunto nel link qui sotto in descrizione o nel primo commento. Quindi perché non cogliere la palla al balzo? Io direi che è il momento di farlo, perché potrebbe essere appunto un vostro possibile sbocco lavorativo. Quindi mi raccomando mettetevi in gioco e in bocca al lupo. Ma adesso ragazzi iniziamo con il video gameplay, quindi spolliciata più non posso, commentate e niente ragazzi, vi auguro una buona visione. I don't know what... Va bene, vai, vai, va bene, vai, 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 andiamo a croce via, vai, andiamo a croce via, io vado a sleep. No, io sto andando a croce, mi dispiace, di nuovo splittate? Io vado a sleep. Va bene, arrivo anch'io. Ok, vado a croce via. Ok, vado anch'io. Vado a sleep. Ok, vado anch'io. Vado a sword. sono piccola 18 anni povero gabbiano sono scappata ha perduto la compagnia arrivano lui mi prende attraverso la scala va bene curarmi 22 al tuo 35 a questo che sta parlando mi deve ma c'è gente raga c'ho una mira di fiocina che neanche gesù quando ha creato la gente le persone ciao fra hai ragione come nasai come come dai tieni ti do questa vai hai ragione che stai parlando ma hai ragione mi ha fatto la nino no 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 vattene 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 lascialo vado a prendere il loot amo lasciami il loot guarda c'ho il pompa bianco no butta tutte le armi che hai cinque slot per te la voglio vedere ora cinque slot allora senti poi ok queste cominciano a prenderle ok butta tutto quello che preso lascia quello che preso no 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 me ne fiega non mi fido se sei stata la prima a rubarmi non mi interessa è stata la prima a rubarmi fai vedere cosa hai preso dal tipo poi basta non mi ricordo forse due cilini ok perfetto ti do le splash e ti do questi la carabina te la puoi tenere comunque bastava chiedere non è che devi rubare cioè basta chiedere che c***o spari ho lì lì 12 sono sotto me quanta gente credo distrutto uno se da sola rimare sulla per un bel po di tempo non mi chiamano amore niente sta morta amo devo scendere siti di prada sola tipo uscano quasi non ho accaduto ok vai tu difendimi io vado lì no tu sei morta te la ammazzano raga non è che vabbè dai porco dai fra mi ha rotto il c***o ti giuro ma sono così da giocare perché sono a f*** di me giocare a c***o ti dirai più eh che fa non ti diverti più adesso eh esce però non riesce a morirci è traccato uno è traccato uno ci sono un team ci sono un team 33 22 22 quello lì vieni qua riusciamo insieme no c***o ok flash qui le prendo eh dai dalle prove la faccio tutte posso cadere ma lo t***o cade bella bella dovresti insegnarmi praticamente crackato che anche che mi isso io ho 3 capi di numero distrutto sono fuori safe giusto per info si lo so ci vedo è veramente scappi di due boccati in volo c'è uno qua che si sta curando proprio tre body di shot tre body shot di carabine va bene guarda vera c'è un team è un solo you are right 20 31 20 20 21 l'ultimo 23 vado vado a massarmi ancora la che one shot fatto male mamma mia ragazzi che demon è ho fatto giocare con la chiamata si ho visto ho visto ok vado 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 video vado Grazie a tutti.